Musica Nell'ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana è stato approvato all'unanimità un nuovo testo di legge per l'affidamento degli impianti sportivi. Con il documento si aggiornano i criteri di affidamento degli impianti nei territori prevedendo che ciò avvenga in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva con procedure ad evidenza pubblica. Tra i criteri indicati dalle nuove norme per la scelta dell'affidatario ci sono la storicità sul territorio dell'ente, il numero dei tesserati alla federazione sportiva con attenzione al numero dei tesserati del settore giovanile. Cambiano i criteri, cambiano alcuni principi, è un lavoro che è stato fatto in commissione a partire da una proposta mia e del consigliere Stella su cui abbiamo lavorato anche come PD ma anche con altri gruppi politici. È stato un lavoro che ha portato un risultato significativo, un'animità, segno che il lavoro fatto è andato nella direzione di mettere i comuni, gli enti locali nelle condizioni di lavorare meglio. Lavorando sui criteri, inserendo criteri nuovi o rimodellando criteri esistenti nella versione precedente della legge, a partire dall'autocità sul territorio, sull'impianto, la valorizzazione dei settori giovanili, degli staff, si punta a valorizzare quelle realtà che fanno una gestione attenta alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi e a favorire i comuni ad avere quegli strumenti necessari per governare questo pezzo del loro territorio, gli impianti sportivi, un pezzo assolutamente fondamentale nella crescita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e di tutto il tessuto sociale che caratterizza e alimenta le nostre comunità. Gli impianti sportivi, questa legge regola la modalità di concessione degli impianti sportivi ma noi pensiamo che sugli impianti sportivi vada fatto un lavoro differente. Noi in Toscana abbiamo pochi impianti sportivi, quei pochi sono tenuti male, a volte malissimo, non è mai stata fatta una programmazione, nemmeno un'attività comprensoriale per cui nei comuni più piccoli, a due chilometri di distanza uno dall'altro, troviamo gli stessi impianti ripetuti, entrambi fatiscenti, anziché invece trovarne uno solo tenuto bene. Noi pensiamo che lo sport per i più giovani sia il migliore antidoto verso le devianze, verso le cattive pratiche, per poter far sport ci vogliono impianti sportivi, ce ne sono pochi, tenuti male e fino ad oggi non sappiamo nemmeno bene come si sono stati dati in concessione, tra l'altro sempre ai soliti. Pensiamo che ci sia un grande tema, che sia quello degli stadi, delle grandi città, dei città-capoluoghi, che sono utilizzati una volta ogni due settimane. Noi pensiamo che si possono utilizzare anche per le squadre minori, per fare la finale del campionato, per giocare una volta un torneo nello stadio e avere quindi quel tipo di soddisfazione, sono spazi pubblici, di proprietà pubblica, che vengono gestiti soltanto da alcuni come se fossero degli spazi privati. Quindi c'è un grande tema, su questo grande tema, che è fondamentale per la salute, per i giovani, ci manca un assessore. In Toscana non c'è l'assessore allo sport, l'assessore, la delega allo sport l'ha mantenuta il presidente Gianni, che contemporaneamente è assessore alla cultura, assessore al bilancio, commissario a Piombino, commissario nel Mugello, commissario nella Piana Fiorentina, più e tutta un'altra serie di cose, oltre a fare il presidente di regione. Evidentemente non ha il tempo, la testa, per poter fare il presidente di regione e l'assessore allo sport. E contemporaneamente non c'è una programmazione, non c'è un fabbisogno, si va a pioggia in qua e là, ma non pensiamo che sia il modo migliore per affrontare una tematica fondamentale e prioritaria come quella dello sport. In Toscana arrivano le palestre della salute con una nuova legge che va a disciplinare delle strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, dove si potranno svolgere i programmi di esercizio fisico strutturato sotto il controllo di figure mediche professionali. La nuova norma va quindi a definire dei requisiti strutturali ed organici che rendono una struttura idonea ad accogliere cittadini che presentano patologie o fattori di rischio sanitario, dove svolgere programmi di attività fisica personalizzati consigliati dal medico curante. L'atto è stato discusso e approvato con i voti favorevoli di tutti i gruppi politici di maggioranza e opposizione, ad eccezione del gruppo di Fratelli d'Italia che ha espresso il voto contrario e che chiedeva di stilare un regolamento di attuazione per ottenere la certificazione di palestra della salute. Direi che abbiamo ripetuto quanto avevamo detto in commissione, era stato un voto all'unanimità, c'è stato qualche battibecco perché la maggioranza ha bocciato un ordine del giorno di Fratelli d'Italia che alla fine poi non hanno votato il provvedimento. Per quanto mi riguarda, nel mio intervento ho evidenziato quanto sia importante che non rimanga un esercizio sterile di stile, perché la palestra della salute non deve essere un qualche cosa che dà una medaglietta a una palestra, ma deve essere un luogo sicuro dove soggetti fragili vanno fiduciosi di poter in qualche modo essere accuditi laddove ci fosse dei problemi. Non è un studio medico né una palestra di natura medica, è un qualche cosa di sportivo per quei soggetti fragili che comunque vogliono mantenere un esercizio fisico adeguato, pur avendo delle problematiche fisiche e conseguentemente sentirsi tutelati. Un'occasione persa, noi siamo convinti che lo sport, specialmente per chi lo fa oltre 40 anni, sia soprattutto una pratica che serve a avere una salute migliore. Le palestre della salute sono una certificazione perché in alcune palestre si possono trovare anche dei servizi anziché no. E noi per esempio riteniamo che per avere la certificazione della palestra della salute si debba avere uno spazio dove ci possa essere un ambulatorio di specialisti, dove venga fatta un'attività diagnostica di bassa e media intensità, dove venga fatta un'attività di screening e di prevenzione per cui se il consigliere Petrucci va in palestra nel tal posto sa che lì può trovare una volta alla settimana, una volta al mese la possibilità di fare un elettrocardiogramma sotto sforzo, la possibilità di misurarsi la pressione, la possibilità di avere una visita specialistica piuttosto che fare un'attività di screening e prevenzione anche a pagamento tutto questo per scelta volontaria. Quindi se vado a una palestra Rossi, che è una palestra della salute, trovo anche questo tipo di attività, se vado a una palestra Bianchi non la trovo e in virtù di questo scelgo una palestra anziché l'altra. Un'occasione persa, quindi su questo pensiamo che questa legge sia una non-legge che non serve a nulla se non a fare un esercizio dialettico e retorico e noi pensiamo che i toscani abbiano bisogno di alto, di scelte coraggiose anche in questo ambito. Una legge importante per la Toscana, una delle prime regioni d'Italia ad adeguarsi, nascono le palestre della salute, dei luoghi dove si può fare sport e in sicurezza, dove dei professionisti possono accompagnare gli esercizi fisici strutturati dei singoli individui che quindi hanno dei professionisti che possono dare dei consigli, possono dare un supporto, non soltanto laureati in scienze motorie ma anche laureati in scienze dell'alimentazione e non solo in medici dello sport. Spetterà adesso alla Giunta regionale definire criteri, metodologie, personali da assegnare in quelle palestre dove ci sarà un riconoscimento oggettivo, sarà una novità importante perché diventeranno luoghi di sport e luoghi di salute. Non è un'iniziativa di carattere sanitario ma la salute in questo caso si produce mediante lo sport che sviluppa prevenzione. Sono molto orgoglioso di essere stato il firmatario di questa legge che dà alla Toscana anche l'orgoglio di introdurre una novità importante, magari anche il sogno di riconoscere il Pegaso fuori di una palestra che dà anche una garanzia e tranquillità a tanti genitori che mandano i propri figli in questi luoghi a fare sport. Il Consiglio regionale approva a maggioranza il rendiconto per l'anno finanziario 2023. L'Aula si è espressa a maggioranza con i voti favorevoli di Partito Democratico, Italia Viva e Fratelli d'Italia, contrari Lega e Gruppo Misto Merito e Lealtà. Si è estenuto il Movimento 5 Stelle. Il bilancio del Consiglio regionale ammonta a oltre 39 milioni di euro e nel 2023 ha visto rispetto all'anno precedente economie nella spesa per i servizi istituzionali generali e di gestione per circa 1.717.000 euro. I numeri ci parlano di una gestione sicuramente attenta, oculata ed anche efficace. Ciò è dato dagli aspetti di bilancio contabile in senso più stretto, però anche il fatto che il rendiconto consegni al Consiglio regionale in questo esercizio 1.700.000 euro di disponibilità da poter utilizzare in maniera libera sia per spesa di investimento che per spese correnti, ma una tanto ci segnalano appunto come l'attenzione alla spesa e ai costi sia stata un'attenzione che ha prodotto anche risultati utili. Quindi io giudico questo positivamente, in quanto così come solitamente il bilancio viene condiviso dall'ufficio di Presidenza, ci possa anche essere in maniera condivisa l'utilizzo di queste risorse che noi potremo appunto usare in questo esercizio 2024. Così come è stato fatto anche in precedenza, allorché gli avanzi di amministrazione del bilancio del Consiglio sono stati utilizzati anche di volta in volta per esigenze, bisogni o anche emergenze. Ricordo ad esempio i contributi stanziati mesi fa nel 2023 per sostenere i comuni impegnati dalle alluvioni e da eventi calamitosi. Ecco, quindi le frequenti variazioni di bilancio che qualcuno in aula ha sollevato come elemento di criticità noi riteniamo invece che siano elementi che attestino una gestione attenta, proprio una gestione che guarda anche all'evoluzione dei fatti e destina le risorse in base anche alle esigenze che di volta in volta si presentano. Il gruppo della Lega ha votato contrario al rendiconto del Consiglio regionale mettendo in evidenza alcuni aspetti che riteniamo fondamentali. Il primo è quello che ci sono continui avanzi liberi, ormai da parecchi anni, che a nostro avviso testimoniano una scarsa programmazione e probabilmente anche eccessive risorse a disposizione del Consiglio. Peraltro sotto questo profilo abbiamo evidenziato la necessità che avevamo richiesto già da tempo di una dotazione per le proposte di legge e di iniziativa del Consiglio regionale di risorse economiche da questo punto di vista che invece non trovano ancora soluzione tra Giunta e Consiglio regionale. Alla luce di questo e alla luce anche di una difficoltà di programmazione di molti settori che non riescono nemmeno a spendere le risorse. Presentato a Firenze il premio Architettura dedicato al settore contemporaneo che pone nel 2024 attenzione alla funzione sociale delle architetture. I sei progetti vincitori sono stati selezionati sulla base della capacità dell'interpretazione del contesto, della funzionalità sociale delle opere realizzate, della qualità costruttiva e della responsabilità ambientale. Novità dell'edizione 2024 è stata l'organizzazione del concorso di progettazione per l'allestimento di una mostra itinerante che nei prossimi sei mesi girerà l'intera Toscana. Il premio di architettura a Toscana giunge oggi alla sua quarta edizione. È un premio che vuole premiare l'architettura come opera collettiva in cui committente, progettista e impresa costruttrice vengono premiati tutti insieme come soggetti fondamentali per la realizzazione di un'opera di architettura. È un'edizione che ha visto la partecipazione di circa 120 progetti, quindi una buona partecipazione, considerando anche il fatto che siamo usciti negli ultimi cinque anni, c'è stato anche un paio di anni di pandemia che hanno inciso non poco su tutto il processo della costruzione dell'architettura. C'è questa cultura del lasciarretto, ovvero fare le nottate a scuola per consegnare il proprio progetto la mattina seguente. Il carretto, la sciarrette quindi, era il mezzo che veniva utilizzato per trasportare queste tavole enormi che erano realizzate al mano spesso all'ultimo momento, erano ancora sgocciolanti magari, quindi andavano portate in una maniera che si potessero asciugare prima della presentazione della mattina seguente. Siamo partiti da questo concetto, abbiamo sviluppato questi moduli espositivi come dei carretti facili da trasportare, soprattutto perché l'esposizione poi sarà itinerante in tutte quante le province della Toscana e facili da montare con dei materiali comunemente facili da trovare in cantiere, quindi strizzare anche un po' l'occhio agli addetti ai lavori. Credo la cosa più importante da dire in questa occasione sia quello di interrogarsi su cosa possa essere oggi un premio di architettura, nel senso che forse più che uno strumento utile all'autocelebrazione di una categoria dovrebbe essere un tramite per chiedersi attraverso una comunità quale sia la direzione futura delle città o dei luoghi. I criteri che abbiamo scelto con la giuria con cui è stato fatto un lavoro molto interessante e molto condiviso è stato quello di scegliere dei progetti che potessero essere dei piloti e quasi dei pretesti per ragionare sui luoghi. È stato premiato sicuramente la specificità che uno di questi lavori ha messo in atto attraverso l'ascolto.